Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Arrestati i quattro responsabili del tentato omicidio di Stefano Morbidelli Polti in flagrante e arrestati i tre ladri rubavano gasolio a bellocchi di Fano Al Via, la campagna anti-influenzale, da oggi i vaccini sono disponibili Buonasera e benvenuti dalla redazione di Occhio alla Notizia Ci sono voluti quattro mesi ma sono stati individuati e arrestati i malviventi Che il 12 luglio scorso pestarono a sangue Stefano Morbidelli in un bar di Marotta Vediamo tutti i particolari nel servizio realizzato da Simona Zonghetti Lo massacrarono di botti, lo colpirono in testa con uno sgabello del bar E come se non bastasse continuarono ad infierire su di lui Nonostante fosse caduto a terra, picchiandolo con ferocia davanti a decine di persone Tra cui i bambini Poi la fuga dei malviventi, indotta dall'intervento dei gestori del locale Che fermarono l'aggressione Successe il 12 luglio scorso al chiosco Barosi a Marotta Sul lungomare Cristoforo Colombo Ai danni di Stefano Morbidelli Il 49enne di Mondolfo lasciato esanime in una pozza di sangue Trasportato prima al pronto soccorso di Fano E poi con l'eliambulanza al Torretti di Ancuna Fu ricoverato per trauma cranico e diverse ferite Con una prognosi di oltre 45 giorni Ma questa volta i responsabili sono stati assicurati alla giustizia Con l'accusa di tentato omicidio nella notte tra il 10 e l'11 novembre Sono finiti in manette Giovanni Cristalli 29enne di Vieste E Mirko Calvari, 42enne di Loreto Ritenuti gli esecutori del pestaggio E inoltre Alessandro Petrolati 40 anni di Porto Recanati E Ricard Glisic, 30 anni Nato in ex Jugoslavia Ma residente a Iesi Colui che prestò l'auto Una BMW 320 Cabrio Utilizzata dai malviventi Per darsi alla fuga Dopo la violenta spedizione punitiva Auto sottoposta poi a sequestro Insieme ad altri 20 cellulari e oggetti vari Tra cui computer Partiti dalla targa del mezzo E dai tabulati telefonici Dopo 4 mesi di indagini Svolte dai carabinieri di Marotta Con la collaborazione di diversi comandi provinciali Il GIP del Tribunale di Pesero Ha emesso nei loro confronti L'ordinanza di custodia cautelare in carcere Anche per evitare i rischi di inquinamento Delle prove e di fuga Considerando il fatto che tutti i componenti della banda Hanno dei precedenti giudiziari Chiediamo come al solito la collaborazione della cittadinanza Perché questo è stato un grave episodio Che riteniamo fosse finalizzato Ad acquisire una certa temibilità Da parte di questi soggetti Per poi ottenere altri fini Altri scopi in ambito criminale Quindi dalla piccola estorsione ad altro Quindi se qualcuno ha avuto a che fare È stato minacciato e riconosce questi soggetti Può certamente rivolgersi a noi Per quale motivo è stata richiesta questa spedizione punitiva? Allora il motivo noi temevamo che fosse legata a un racket O che cosa legata ai luoghi dove è stato fatto questo grave delitto Invece in effetti abbiamo ricostruito un po' le vicende Che hanno portato a questo reato E abbiamo scoperto che è dovuta a una lite tra vicini Tra confinanti Nel corso della quale uno dei due ha pensato bene Di ricorrere a questi soggetti prezzolati Per poter farsi giustizia da sé E ora le indagini comunque proseguono? Le indagini proseguono Anche perché abbiamo diversi elementi ancora da riscontrare Per poter inchiodare i soggetti sul luogo del delitto Al momento dell'evento E arrestati anche i tre ladri che colti sul fatto Stavano rubando del gasolio in un'azienda a Bellocchi Vediamo tutti i particolari nel servizio realizzato Questa volta non hanno avuto scampo I militari li hanno individuati, circondati e bloccati Sorprendendoli a rubare gasolio all'interno di un'azienda di Bellocchi Che opera nel settore delle costruzioni speciali Qualcosa infatti gli è andato storto E' scattato l'allarme dal distributore E' partita la relativa chiamata alla centrale operativa dei carabinieri Che di conseguenza hanno allertato le pattuglie presenti sul territorio Le prime ad arrivare sono state quelle del norme dei militari di Fano E poi la pattuglia della locale stazione Sul posto intanto era già presente la guardia giurata Di una società di vigilanza privata locale Che aveva comunque segnalato il furto verso mezzanotte Una volta arrivati hanno subito notato due persone all'interno del piazzale della società Che alla vista degli agenti si sono dati alla fuga Dopo poco i carabinieri sono riusciti a fermare i malviventi Che fra l'altro emanavano un forte odore di gasolio Inoltre in un vaso poco distante Al loro nascondiglio sono stati ritrovati due paia di guanti in gomma E dalla perquisizione personale E' saltato fuori un mazzo di chiavi Chiavi che aprono la sala cinesca del garage di una casa situata nelle vicinanze Dove stava in affitto il rumeno Uno dei ladri All'interno c'erano 28 taniche da 25 litri colme di gasolio E 22 della stessa capacità vuote Giunto il proprietario della ditta ha raccontato che a seguito dei numerosi furti subiti Aveva installato una telecamera che inquadrava il distributore Ma visualizzando le immagini è stato quindi possibile identificare con certezza gli autori del furto Il trio è composto dal guardiano Un 38enne rumeno ed altri due italiani Un 34enne ed un ragazzo di 23 anni Entrambi residenti a Fano ma di origine di Torre Annunziata Altro particolare Il 34enne per entrare ha utilizzato un telecomando di cui è in possesso In quanto ex dipendente della ditta stessa Estese le perquisizioni nell'abitazione dei due campani In quella del 23enne i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 4 taniche da 25 litri colme di gasolio Nonché materiale per l'estrazione consistente in tubi, imbuti e guanti in gomma Il proprietario della società ha giunto in caserma Ha denunciato un ammanco complessivo di gasolio dal giugno 2014 di 20.000 litri Per un valore di circa 30.000 euro I tre sono stati tratti in arresto per furto aggravato E condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria E dopo la bomba disinnescata il 31 ottobre scorso A Borgopace è stato ritrovato un altro ordigno bellico Si tratta di una bomba di mortaio della seconda guerra mondiale Ritrovata in via degli Abeti vicino alla riva del fiume Foglia A circa 400 metri dal casello autostradale di Pesaro L'allarme è stato lanciato stamane da un cacciatore Che se l'è ritrovata improvvisamente davanti L'aria è stata transennata dai vigili del fuoco e dai carabinieri E ora si attendono gli artificieri I furti sono dovuti dalla difficile situazione economica Ed è per questo che ci dovremmo tutti aiutare Sentiamo le dichiarazioni di una donna Che ha subito nei giorni scorsi un tentativo di furto in casa sua Ci siamo accorti la domenica perché io sabato sera sono tornata tardi E la domenica mattina nel provare a aprire la persiana ho visto Che cosa c'è sulla persiana? Sulla persiana c'è un segno di un probabile o cacciavite O che altro strumento per poter entrare E hanno rotto un pezzettino piccolo di muro Proprio per far passare questo strumento per entrare Ecco lei signora però che cosa ne pensa di questi furti? Allora io di questi furti ne penso che I ladri e i delinquenti ci sono sempre stati e sempre ci saranno Però mi sembra un po' esagerata questa paura che ormai abbiamo tutti a Fano Che fomenta un pochino sia la paura che un po' il razzismo Ecco mi sembra che purtroppo questo aumento di tentativi, di furti O anche di piccoli furti perché sappiamo che nella maggior parte dei casi Vedendo il vostro notiziario sono furtarelli, pochi euro Sono dovuti proprio alla situazione economica, sociale, al degrado, all'impoverimento Che c'è oggi nel nostro paese E allora tutti noi dovremmo un attimo farci una specie di esame di coscienza Io per la prima e cominciare a vedere un pochino che cosa succede Nella casa del mio vicino, di chi ha perso il lavoro Ecco io penso che forse questo aiuterebbe un pochino A essere più aperti e a essere anche più tranquilli un domani Se tutti riusciamo a essere un po' tranquilli Io sono mamma, sono nonna E se mio nipote avesse fame e io non avessi soldi Lo giuro, se passo vicino a una mancarella di verdura 4.000 le ruberei E sempre sul tema della sicurezza La questura di Pesaro ha formalizzato nella tarda serata di martedì Il veto alle passeggiate per la sicurezza Iniziativa promossa da Forza Nuova a Fano Che tiene banco ormai da diversi giorni sui media locali Ancora una volta le cosiddette istituzioni boicottano senza giustificati motivi Un progetto popolare pacifico Ha affermato il coordinatore regionale di Forza Nuova Davide Di Tommaso Aggiungendo che l'imposizione di un presidio nel centro commerciale di San Lazzaro Per questa sera non cambia in alcun modo i loro piani E quelli del comitato di quartiere Al contrario sarà ufficializzata la costituzione del comitato cittadino Fano Sicura L'obiettivo è quello di rendere sicuri i quartieri della città Dando voce all'esasperazione dei cittadini Che fino a questo momento, secondo Di Tommaso, sono rimasti inascoltati E pare che i ladri non risparmino neanche le piante messe a dimora Nelle fioriere del centro storico Verranno rimpiazzate con altre piante più grandi Però già girando per alcuni angoli della nostra città Ci siamo accorti che sono già state rubate Vediamo il servizio Sì, la novità è che da questa mattina o da domattina La ditta che ha vinto l'appalto delle fioriere Sostituirà tutte le piante che sono già state messe Perché ci siamo accorti che da capitolato sono più grosse Quindi, visto che ci sono state tutte queste polemiche sul belle e non belle Speriamo che vengano più belle con il discorso delle piante più grandi Comunque, non sono brutto belle Le piante già le hanno rubate In molti punti della città Quando vi siete accorti? Subito, dai primi giorni Dai primi giorni ci siamo accorti che in alcuni punti hanno rubato Hanno provato via le piante Ed ora parliamo della questione che riguarda la realizzazione del parco pubblico Nella zona dell'ex aeroporto Affano È stato sottoscritto questa mattina ad Ancona l'accettazione del decreto Con cui l'Agenzia regionale del Demanio ha trasferito al comune di Fano Un pezzo di terreno lungo la strada comunale del campo di aviazione Nell'incontro con il direttore regionale Il sindaco di Fano, Massimo Seri Ha affrontato la questione relativa al passaggio dei terreni demaniali Nella zona limitrofa dell'aeroporto Sui quali l'amministrazione comunale ha intenzione di realizzare il parco pubblico del Vallato Il primo cittadino ha assicurato che l'amministrazione sta lavorando Per acquisire dal Demanio 30 ettari Che uniti a quelli già di proprietà del comune Continueranno a realizzare l'opera Il trasferimento della proprietà rientra nel quadro del federalismo demaniale A costo zero per il comune E dopo il passaggio sulla nostra emittente E anche delle dichiarazioni dei due sindaci di Pesaro e di Fano Sulla possibilità che un bienio dell'agrario venga qui a Fano Si è espresso anche l'ex sindaco di Fano, Stefano Aguzzi Vediamo la sua dichiarazione L'anno scorso io ho incontrato la dirigenza della scuola dell'istituto Docecchi E proprio abbiamo parlato della possibilità di portare un corso, un bienio a Fano E mi chiedevano una possibilità di quale sede potevamo mettere a disposizione E io gli dissi proprio due cose Se è una piccola sede che vi serve C'era libera la scuola elementare di Torrette che si era appena liberata E feci quella proposta E poi lanciai anche l'idea del CODMA Dove veniva ospitato fino a pochi anni fa Fano Teneo Questa proposta entusiasmò la dirigenza dell'istituto Docecchi E io feci subito una richiesta in provincia Di inserire questa possibilità nel piano di dimensionamento scolastico 2013-2014 La provincia non accettò questa mia richiesta A me fa strano che l'allora presidente della provincia Oggi sindaco di Pesaro E l'allora assessore provinciale Oggi sindaco di Fano Dissero di no a una cosa che oggi invece li trova molto concordi Quindi come si dice Meglio tardi che mai Mi dispiace che non l'abbiano fatto prima quando avevano il potere di farlo Oggi che neanche gli compete quali sindaci Si dicono d'accordo Forse per fare un po' Diciamo così Di bella figura verso i cittadini Detto questo Qualsiasi atto Che vada in questa direzione E che debba passare per il Consiglio Comunale di Fano Troverà la mia completa disponibilità E la mia completa collaborazione Perché ritengo una cosa importantissima Questa possibilità per il futuro di avere una parte dell'istituto Cecchi Nella nostra città Nel nostro territorio A servizio dei nostri cittadini E su questo argomento è intervenuto anche il neopresidente della provincia Tagliolini Secondo il quale la rete scolastica è provinciale e non comunale Dunque tutte le decisioni devono essere prese all'interno del Consiglio Provinciale E non derivare dall'accordo tra i singoli comuni E sempre su questa dichiarazione di Tagliolini è intervenuto il sindaco di Pesaro Che è l'ex presidente della provincia Matteo Ricci Dando ragione a Tagliolini Perché dice Nell'ambito decisionale Spetta al Consiglio Provinciale E alla pianificazione provinciale Ma credo che sia importante Che i due sindaci dei comuni più grandi Invece di andare allo scontro e al muro contro muro Abbiano impostato un dialogo costruttivo Per risolvere un problema sentito da tutto il territorio Ed ora la prevenzione La prevenzione antinfluenzale I vaccini come avete sentito dai titoli Sono disponibili presso i medici di medicina generale E anche nelle farmacie Naturalmente gratis per tutte le prevenzioni E i pazienti a rischio La migliore arma per combattere l'influenza Frequente motivo di consultazione medica E ricovero ospedaliero È la prevenzione e la vaccinazione Che rappresentano il metodo più efficace e sicuro Per prevenire la malattia e le sue complicanze Il Dipartimento di Prevenzione e Sanità Pubblica di Fano Oggi ha dato il via alla campagna contro l'influenza È importante la vaccinazione Perché l'influenza è una delle cause principali Di ricovero e di mortalità Sia in Italia che nel mondo È una mortalità che spesso passa inosservato Ma in realtà è una delle principali cause di morte Nell'ambito delle malattie infettive Quindi soprattutto i soggetti a rischio E in particolare le popolazioni che sono al di sopra di 65 anni Gli operatori sanitari, medici Ma anche tutti quelli che hanno malattie cronico-degenerative Sia a livello polmonare, sia a livello renale E quant'altro È bene che facciano la vaccinazione Perché sono a rischio di complicanze Le complicanze di vaccinazione possono dare effetti gravi Soprattutto nei soggetti che hanno una predisposizione Quindi l'essere sopra di 65 anni di età Costituisce già un fattore di rischio E avere delle patologie che possono essere aggravate Da un'influenza diventa un fattore di rischio Di complicanze molto importanti Alcuni vaccini sono gratuiti ma per chi? Tutti i vaccini sono L'influenzale è gratuita per tutti i soggetti Che rientrano nelle categorie rischio Che abbiamo appena accennato Quindi possono rivolgersi tranquillamente Presso gli ambulatori del distretto Se vogliono oppure direttamente dal loro medico curante Che gli può effettuare la vaccinazione Completamente gratuita Per chi non rientra nelle categorie a rischio Invece può acquistare il vaccino in farmacia Ad un prezzo che va dai 10 ai 12 euro E solo dietro prescrizione medica Bene, prima di salutarci Vi ricordo che domani sera Sarà qui nei nostri studi Il sindaco di Fano Massimo Seri Per l'appuntamento con Primo Cittadino Naturalmente sarà a disposizione Per rispondere alle vostre domande E per fare questo potete contattare La nostra redazione E per intervenire anche in diretta Potete chiamare il numero 0721 861433 Oppure mandare un sms O anche un whatsapp al 338 4968 250 Bene, io mi fermo qui Per questa edizione di Occhio alla Notizia Grazie per essere stati in nostra compagnia Naturalmente l'appuntamento è per domani sera Sempre alle 20 e 30 Buona serata a tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti